Aerobica classica o cardio heat per accelerare la perdita di grasso? Ne parliamo in questo video. Ciao a tutti ragazzi, sono Filippo Pagani di Fisico da Spartano e benvenuti in questo nuovo video. Domanda molto ricorrente quella dell'aerobica o dell'heat per perdere grasso. Quindi ho deciso di fare questo video per dirvi le caratteristiche dell'una e dell'altra attività e quale a mio avviso è migliore dal punto di vista della perdita di grasso. Intanto con aerobica intendiamo la classica aerobica a bassa o media intensità, quindi il classico jogging oppure la cyclette, l'andare in bici. Aerobica quindi fatta con una frequenza cardiaca intorno al 65-70% della frequenza massima. Una frequenza che dovrebbe permetterti di rimanere nel metabolismo aerobico e bruciare i grassi a scopo energetico. Ci sono un po' di considerazioni però da fare su questo tipo di attività. Intanto per i primi 15-20 minuti non bruciate i grassi ma gli zuccheri che sono ancora circolanti. Di conseguenza per avere un consumo specifico dei grassi con questo tipo di attività dovreste prolungare lo sforzo almeno per 30-40 minuti. Il che può portare a dei problemi perché negli sforzi prolungati, soprattutto oltre i 40 minuti, si innalza il cortisolo che è un ormone catabolico e ingrassante. Durante questo tipo di attività si bruciano calorie ma non in una quantità così importante. Si tratta di circa 1 kcal per kg di peso corporeo per km per corso. Quindi se siete, non lo so, 80 kg, 80 kcal al km. Se andate a una frequenza di 65-70% della frequenza massima vedrete che riuscirete a fare sì o no 30-40 minuti, 4-5 km e vedrete che avrete consumato circa 300-400 kcal. E non tutte dai grassi, perché come vi ho detto i primi 15-20 minuti consumerete principalmente zuccheri. Detto questo bisogna anche aggiungere che dopo l'attività aerobica non c'è un innalzamento del metabolismo basale nelle ore successive, ovvero il classico EPOC. Nell'aerobica a bassa e media intensità l'EPOC è veramente molto molto limitato. Quindi quando svolgete questo tipo di attività andate a bruciare le calorie che abbiamo detto e poi finisce lì. Mentre invece col cardio HIIT o semplicemente HIIT avete un'attività aerobica e anaerobica ad alta intensità che durante lo sforzo va a consumare prevalentemente zuccheri, ma post esercizio eleva in misura maggiore il metabolismo basale. Quindi andrete a riposo a consumare molte più calorie. È un tipo di attività che preserva maggiormente la massa muscolare e come vi dicevo ha un'influenza maggiormente positiva sul profilo ormonale, cosa fondamentale. Quindi nonostante col HIIT durante l'attività non si consumino praticamente grassi, comunque nelle ore successive ne andrete a consumare molti di più rispetto all'aerobica classica. Quindi tra le due è meglio sicuramente scegliere l'IT. Ma in realtà a mio avviso c'è una terza scelta ancora migliore che fa sempre parte della categoria degli sforzi ad alta intensità, ma va a richiamare prevalentemente il metabolismo anaerobico a lattacido. Ne parlo nel mio protocollo per massimizzare la perita di grasso corporeo. Te ne parlerò prossimamente. Mi raccomando rimani sintonizzato perché avrai novità. Se non l'hai fatto iscriviti al canale, attiva la campanella per essere aggiornato quando caricherò un nuovo video. Ti lascio in descrizione eventuali risorse da consultare e che dire, ci vediamo al prossimo video.